No, sono contento perché questo gruppo solo meritava già in Giappone, meritava la qualificazione già lì. Poi sono contento perché è la mia quarta, ma soprattutto per tanti di loro che non l'hanno mai fatta e non ci sono mai stati. Essere in questo gruppo, un gruppo diverso, che cosa ti ha portato? Per me è un onore, alla mia età, stare in un gruppo di giovani, a parte papi e fei gatti sono più che 20, 22 anni, 25 anni, guarda il grande Jumbo. Ciao, dove andiamo a mangiare? Bravo, organizza. Jumbo, Jumbo. Venti, torni alle Olimpiadi, ve lo siete conquistato sul campo con grande merito. Sì, come è giusto che sia, era una finale, per accedere a Londra, con i break, però abbiamo fatto, secondo me, una grande partita, ma tutto il problema abbiamo diventato molto bene, abbiamo dimostrato che siamo comunque una squadra, una squadra solida e questa penso che sia un valore più importante.